Una mano flessa in simbolo di carità che porge in dono un fiore posto nel centro del palmo dalle cui dita cadranno dei piccoli rami di mimosa come se fossero un pianto, lacrime di mimosa, ossia lacrime di donna. Omaggio a te donna, così è stata chiamata l'opera con elementi floreali in memoria delle 26 giovani migranti arrivate senza vita a Salerno ideata e realizzata dal florer designer Pasquale Carrella. Una base realizzata con del legno ricoperto di sottile sabbia dai colori con riflessi azzurro chiaro che richiamano il mare molto caro alla città di Salerno. L'opera floreale che ha in sé tutti i colori del gonfalone per omaggiare anche la città di Salerno pensata per racchiudere gli aspetti che legano la città al tragico evento è stata consegnata questa mattina a Palazzo di Città alla presenza dell'artista e dell'assessore alle politiche sociali Nino Savastano. L'opera floreale è stata anche riprodotta tramite un disegno artistico dell'artista campana Francesca Rocco in modo tale da rimanere nel tempo. L'idea sicuramente per far rivivere questo tragico momento che il 2017 ha toccato il cuore di noi salernitani con questa scultura floreale per far capire che il mondo dei fiori è anche come si sordì le arte e ovviamente abbiamo dato tutti gli elementi necessari per far capire l'importanza di questi due assemblaggi di non ci vuole elementi.